Lavoro di Aquilani, il cambio di gioco di Mazzitelli, direttamente però sul petto di Pezzella, il lancio in avanti per Nestorowski, il controllo, Nestorowski supera a Cerbi, poi viene fermato il colpo di tacco per Quaisson! Il gol! Colpo di tacco di Nestorowski per Robin Quaisson, Palermo in vantaggio, ottavo minuto, il gol di Quaisson liberato dal colpo di tacco di Nestorowski, una magia dell'attaccante del Palermo, andiamo a rivedere. Non parte assolutamente in fuorigioco, la grandissima giocata di Nestorowski che si ritrova la palla, vede il taglio di Quaisson.